turismo l'only planet porta l'ulisse fest a pesaro alberghiero santa marta inaugurata la nuova palestra l'asilo alberone torna in servizio completata la disinfezione acqua lagna dopo un anno di stop riecco la fiera del tartufo una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sulle canale 633 del digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di venerdì 22 ottobre apriamo occupandoci di turismo e promozione del territorio tantissimi infatti i temi emersi ieri in occasione degli stati generali del turismo tenutisi al cantiere rossini di pesaro fra questi ad esempio spicca l'importante nuova intesa fra il comune di pesaro e l'only planet italia la più nota fra le guide dei viaggiatori sta infatti preparando un volume interamente dedicato alla provincia di peso urbino e proporrà proprio a pesaro il suo festival la prossima estate la lonely planet mette le tende a pesaro l'indiscussa bibbia dei viaggiatori mondiali è pronta a realizzare una guida interamente dedicata alla provincia di pesaro urbino e alla riviera del san bartolo ma non è tutto l'only planet italia porterà a pesaro anche l'ulisse fest il festival del viaggio del viaggiatore sarà infatti una delle novità della prossima estate pesarese novità emerse dalla maratona di otto ore degli stati generali del turismo tenutesi ai cantieri rossini novità anticipate da daniele vimini vice sindaco di una pesaro che in anella un doppio salto di qualità nella promozione del suo territorio la notizia che l'only planet dedicherà una guida proprio a pesaro urbino e alla riviera del san bartolo segno dell'appettibilità di questa destinazione ma anche di quanto si voglia scommettere per promuoverla e lanciarla quindi una guida che sarà nella distribuzione ovviamente come tutte le altre guide tra l'altro ero a torino due giorni fa al salone del libro e lo stand on the planet era assolutamente l'assalto dopo un anno difficile naturalmente da tantissimi appassionati del viaggio e della e della lettura ma non solo la guida cartacea che sarebbe già un risultato importante ma la decisione un lavoro fatto in questi mesi preparatorio assieme al comune di pesaro di portare a pesaro l'Ulisse Fest che è il festival del viaggio, il festival del viaggiatore ideato da Lolly Planet che negli anni è stato a Bergamo e negli ultimi anni stabilmente a Rimini e che simbolicamente significativamente decide di spostarsi a pesaro, sarà una quattro giorni veramente affascinante nel periodo estivo verosimilmente luglio e adesso stiamo decidendo in quale settimana che sarà un'occasione intanto culturale perché saranno grandissimi concerti internazionali e di valore nazionale con la presenza di scrittori, giornalisti, protagonisti televisivi tutto quello che insomma fa il racconto del viaggio e l'esperienza del viaggio Ormai quasi due anni fa Lolly Planet indicò le marche sul podio delle mete da non perdere nel 2020, uno spot straordinario che si scontrò con un ostacolo ancora più straordinario come il Covid-19. Angelo Pittro, direttore di Lolly Planet Italia, era ieri al cantiere Rossini a ricordare che la pandemia non ha ammosciato la pil delle marche nell'immaginario dei viaggiatori Ciò che abbiamo detto rimane nel senso che l'immaginario dei viaggiatori è rimasto sospeso in qualche modo quindi ciò che avevamo sognato noi viaggiatori prima della pandemia adesso è tempo di realizzarlo quello che occorre fare è non fermarsi, appunto ripartire con delle strategie che sappiano valorizzare quanto fatto prima da parte nostra stiamo aggiornando la guida dedicata alle marche i nostri autori sono sul territorio in queste settimane quest'estate abbiamo pubblicato una prima serie di podcast dedicata a sei borghi tra i più belli d'Italia nelle marche e adesso raccogliendo uno stimolo della città di Pesaro stiamo progettando una guida interamente dedicata a Pesaro, Urbino e alla riviera del San Bartolo E dunque non perdetevi lo speciale che Rossini TV ha realizzato sull'intera giornata degli stati generali del turismo e che potrete vedere sulla nostra emittente giovedì 28 ottobre alle 20.10 Il giorno prima, ovvero mercoledì 27 ottobre trasmetteremo invece il nostro speciale dedicato alla riqualificazione della palestra dell'Istituto Alberghiero Santa Marta un importante intervento di edilizia scolastica che proprio questa mattina ha visto il taglio del nastro alla nuova palestra dopo tanti mesi di lavoro dedicati alla copertura, alla pavimentazione e ad altri interventi che ci vengono illustrati nelle interviste che ha realizzato Emanuela Rossi Il telo, l'impianto di riscaldamento e la pavimentazione per rendere questo luogo un luogo bello un luogo conviviale dove i ragazzi possano allenarsi al meglio quindi la soddisfazione del preside, del dirigente scolastico Roberto Franca Sì, veramente sono molto soddisfatto perché i lavori sono andati avanti per diversi mesi diciamo parecchi però il risultato è stato eccellente quindi siamo molto contenti perché i nostri ragazzi hanno bisogno anche di ambienti sani dove poter svolgere l'attività fisica e poter quindi crescere anche in maniera fortificata nel fisico nel fisico e nell'alimentazione ecco noi siamo l'alberghiero per cui abbiamo il binomio perfetto alimentazione e attività fisica veramente devo ringraziare tantissimo la provincia per lo sforzo che ha fatto ma hanno creato una struttura veramente eccellente di prima qualità Un intervento di circa 100-110 mila euro che ha dato una grande svolta a questa scuola e a questa struttura questa palestra verrà utilizzata anche da associazioni sportive qui della città di Pesaro è la dimostrazione che la scuola si apre alla società come la società deve essere aperta alla scuola questa è una delle palestre che il comune concede alle realtà sportive che fanno richiesta al comune di Pesaro nello specifico questa struttura per noi è fondamentale sia dal punto di vista sportiva ma anche dal punto di vista sociale perché questa struttura trova l'ospitalità di ragazzi disabili quindi diciamo le attività sportive che vengono indirizzate qui sono attività sportive per ragazzi disabili quindi dal baschine ad altre attività sportive quindi per noi era fondamentale poter riavere la disponibilità di questa struttura è veramente bella, riqualificata, un parche nuovo, un telone nuovo e quindi veramente è anche invitante venirci a fare sport ieri vi abbiamo dato notizia della chiusura che si è prolungata l'asilo nido alberone di Soria dallo scorso 15 ottobre fino alla giornata di oggi a causa di una sospetta infestazione di roditori nella struttura i servizi educativi del comune hanno oggi riferito alle famiglie che l'operazione di disinfestazione, disinfezione e sanificazione dei locali è stata completata e il servizio potrà riprendere lunedì 25 ottobre nei ripetuti sopralluoghi oltre a escrementi di roditori è stata rilevata la presenza di un topo da parte dei tecnici oltre a due fori di possibile ingresso degli animali che sono stati chiusi con un intervento strutturale Aspes ha anche contattato il proprietario della struttura abbandonata adiacente all'asilo per disporre una bonifica allargata dell'area in questione La polizia locale di Pesaro è intervenuta questa mattina per due incidenti stradali avvenuti a circa un chilometro di distanza Prima in via Sandro Pertini all'altezza della pasticceria Il Cantuccio un ciclista è rimasto ferito rovinando a terra in un sinistro che ha coinvolto altre due auto e poi attorno alle 8.30 le immagini che vi mostriamo si riferiscono invece ad un incidente che ha coinvolto ben tre macchine alla rotatoria della torraccia a pochi passi dal negozio prenatal Complice la pioggia, uno dei mezzi coinvolti ha perso il controllo della guida rovinando in uno scontro frontale con un'altra macchina Le persone coinvolte hanno rimediato ferite lievi C'è un piccolo rialzo di casi di Covid-19 nella regione Marche con 116 nuovi casi di cui 40 in provincia di Pesaro e Urbino che fanno salire dal 4,4 al 5,2% la percentuale di tamponi positivi al contagio rispetto alla giornata di ieri Stabili ricoveri con 55 pazienti nelle Marche di cui 10 in terapia intensiva Purtroppo si sono registrati due nuovi decessi Si tratta di due donne anconetane di 65 e 86 anni con patologie pregresse Ed ora cambiamo argomento perché ottobre è mese di tartufo e quello di Acqualagna è una delle eccellenze più riconoscibili a livello nazionale Dopo un anno di stop per Covid domenica infatti riparte la fiera del tartufo bianco Il re della tavola torna sul suo trono Dopo un anno di stop imposto dalla pandemia la fiera del tartufo bianco di Acqualagna torna con la sua 56esima edizione Si parte domenica 24 ottobre per poi gustare il pregiato tubero anche il 30 e 31 ottobre nonché l'1, 6, 7, 13 e 14 novembre Stende ristoranti pronti ad apparecchiare la tavola assieme al contributo ai cooking show di chef d'eccellenza nazionali come Moreno Cedroni, Alessandro Negrini, Luca Montersino, Antonella Ricci, Vino de Succar e Giorgio Barchiesi in arte Giorgione E ci sarà pure la simpatia del volto storico di Striscia la Notizia Enzo Iacchetti ad esibirsi in uno spettacolo con il pubblico allo scopo di vendere il suo Non è un libro ovvero un'opera letteraria autoprodotta i cui proventi verranno devoluti alla Croce Rossa italiana per l'acquisto di un'autoambulanza Insomma, tanti ingredienti cucinati al punto giusto per valorizzare quell'eccellenza marchigiana che da decenni ha reso Acqualagna un borgo noto a livello internazionale Il 2020 è stato un anno molto impegnativo per tutte le comunità ma noi comunque avevamo fatto un'iniziativa dal titolo Fieri del Tartufo Torniamo alla grande nel 2021 con questa fiera, la 56esima Fiera Nazionale del Tartufo rinnovata con una piazza nuova ancora più accogliente per i visitatori con uno stand dedicato alla ristorazione con un'area dedicata ai cooking con chef stellati e tanti altri appuntamenti importanti che caratterizzano ormai Acqualagna da anni con il tocco di eleganza e di importanza che ha Acqualagna Acqualagna è capitale del Tartufo, questo già da tanti anni Tanti visitatori, le richieste stanno arrivando ormai da settimane al nostro ufficio turistico dove molte agenzie di viaggio ci stanno contattando quindi questo significa sicuramente un numero notevole di presenze voglio rassicurare tutti che abbiamo messo in atto un'organizzazione imponente per ciò che riguarda la normativa Covid abbiamo 60 persone impegnate giornalmente proprio per il controllo per la facilità d'accesso eccetera ma si arriverà in Acqualagna in sicurezza si può arrivare, serve il Green Pass ma verrà controllato solo ai visitatori all'interno non a tutti quindi si può comunque accedere liberamente questo è importante i nostri ristoratori, i nostri commercianti sono in fibrillazione perché dopo questo anno di stop non vedono l'ora di ripartire alla grande come già sta accadendo da mesi in Acqualagna perché abbiamo un notevole aumento dei flussi turistici in tutti i weekend grazie ai visitatori che vengono da tutta Italia a gustare il nostro prelibato Tartufo Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero Whatsapp dedicato che vedete in sovraimpressione 370-366-7210 segnalazioni che quest'oggi dedichiamo a delle curiose foto e video che ci avete inviato per quello che riguarda la fauna ittica un telespettatore ci mostra infatti questa foto di una pesca grossa di una leccia di 14 kg catturata a lamo sul molo di Levante di Pesaro mentre un altro spettatore ha filmato un piccolo squalo verdesca nuotare nei giorni scorsi fino all'arriva della rotonda Bruscoli Rossini TV vi propone ogni anno tanti approfondimenti sul meglio delle GAD il festival di arte drammatica giunto quest'anno alla 74esima edizione cominciata lo scorso mercoledì una kermesse di teatro a livello nazionale che però ha nel suo cartellone anche spettacoli di compagnie pesaresi come quello che vi mostriamo nel prossimo servizio Allora questa idea innanzitutto nasce dalla poesia Vola innanzitutto è una raccolta di poesie nasce da una silloge è la mia seconda raccolta poetica è un racconto di un milione di emozioni che si possono vivere in una relazione amorosa e in particolar modo sono molto contenta perché poi da queste poesie è nato il testo teatrale e da qui l'opportunità di poterlo portare in scena a Pesaro e quindi per questo sono molto grata A livello registico per me è stato molto interessante portare in scena questo spettacolo che nasce appunto da un'idea di Giulia perché c'è stata la voglia e la ricerca di andare a pescare un personaggio che potesse diventare veicolo di sentimenti che sono universali quindi in questo caso Marilyn diventa proprio il simbolo dell'unione della comunione delle emozioni che possono appartenere a tutte le donne del mondo dall'icona mondiale da un mito che è stato appunto quello di Marilyn alla donna del giorno d'oggi quindi a qualsiasi donna del mondo e la stessa cosa vale attorialmente è stato per me interessante studiare questo personaggio e mettermi nei panni di una donna così iconica cercando però di andare a scavare nella parte meno scontata del personaggio quindi andando a ritrovare quelle emozioni che fanno parte della sua vita privata di cui se ne parlava sicuramente molto meno rispetto a ciò che siamo abituati a vedere di un personaggio così iconico quindi della superficie cercando di andare invece appunto a scavare nel profondo in tutto ciò che è stato che ha rappresentato la sua relazione amorosa le sue relazioni amorose e trovare lì il punto di comunione con il sentimento umano universale quindi per me è stato veramente interessante e verrà appunto portato in scena proprio questo la rappresentazione di un amore che può essere condivisibile sia dal personaggio mito alla donna di oggi e questo weekend per l'ultima gara della carriera di Valentino Rossi in Italia Tavuglia si prepara ad un grande abbraccio collettivo tra il dottore e il suo popolo giallo il Comune ha organizzato per domani una edizione straordinaria di Tavuglia in moto in occasione del Gran Premio che si tiene nella vicina Misano dove si potrà assistere a tanti spettacoli e intrattenimento da quello dello stuntman D di Bizzarro alla parata delle moto Benelli d'epoca per i 110 anni di Benelli poi alle 19 l'evento clou della giornata con l'intervista ricca di aneddoti ad Alessio Uccio Salucci compagno di Viaggio di Sempre di Valentino poi spazio allo spettacolo di Fabrizio Vendramin vicitore d'Italia Sgottale in 2011 e l'esibizione musicale della band Gallo Team che fonde insieme musicisti di Vasco Rossi Zucchero e Stadio è di nuovo a weekend di partite per lo sport pesarese domani debutta in panchina coach banchi con la VL nella trasferta di Venezia alle 20.30 è un sabato di campionato anche per la Vispesero che alle 17.30 ospita alle Benelli in Legubbio mentre è già in campo l'Ital Service proprio ora per chi ci segue nella nostra prima edizione del TG Ital Service che ospita il match di campionato interno con Manfredonia partita casalinga che si gioca a Pesero ma durante la settimana l'Ital Service si sta allenando a Fano mentre a Rimini disputerà la Champions League la prossima settimana una situazione di rimbalzi fra città che è stata analizzata dal presidente dell'Ital Service Lorenzo Pizza in occasione della presentazione a Rimini del main round di Champions League vediamo Gli allenamenti a Fano stanno andando bene per adesso diciamo c'è stata questa apertura del comune di Fano di darci praticamente darci massima disponibilità e massimo spazio al circolo tennis alla trave e quindi ecco ringrazio il comune di Fano per quello che ci sta concedendo chiaramente noi siamo io l'ho sempre detto la nostra società di Pesero noi siamo di Pesero la speranza è quella di un domani poter tornare ad allenarci a Pesero anche se comunque ecco diciamo che ci stiamo tra virgolette abituando cioè siamo molto ben accolti da queste città perché come ho detto anche in conferenza stampa quando purtroppo c'è stato l'inconveniente di non poter giocare al vitri questo questo main round di Champions League c'è stata una massima apertura della città di Urbino c'è stata la massima apertura della città di Ancona poi dopo noi abbiamo scelto Rimini perché comunque ci hanno dato tante garanzie ci hanno dato tanta disponibilità però voglio dire questo sta a significare che l'Ital Service incomincia a essere appetibile come società il calciacinque incomincia a essere uno sport che inizia a piacere perché se comunque una città di Urbino Ancona Rimini ti chiamano quindi vuol dire che qualcosa chiaramente io penso che comunque una giunta comunale sia molto attraverso attenta vede certi risultati vede quanto pubblico ci sia quanti bambini ci sono quindi per chiamarti per far sì che dicano vieni a giocare qui nella nostra città sia una Champions sia un eventuale campionato quindi è un segnale importante per tutti noi Anche perché il Pala Campanara è un palazzetto bello insomma anche per gli allenamenti quindi è peccato che questa struttura non venga sfruttata dall'Ital Service è un palazzetto meraviglioso diciamo che è uno dei palazzetti più belli di tutti i palazzetti di calcio a 5 è molto ben strutturato molto ben fatto purtroppo non abbiamo potuto giocare questa Champions al Pala Fiera perché ex Pala Nino Pizza perché ci sono delle norme della UEFA dei vincoli molto stringenti e quindi che fan sì che ci vogliono gli spogliatoi di un certo tipo di tot metri quadrati un grosso numero di spogliatoi quindi purtroppo non abbiamo potuto giocarla lì questa Champions se no probabilmente magari ci saremmo spostati al Pala Fiera e detto questo per quanto riguarda invece il discorso campionato è una struttura adattissima per noi quindi ecco è un peccato non giocare lì però ecco ci sono state fatte delle scelte un pochino così con il comune però io ecco la speranza magari quella un domani di poter rientrare poter rivedere l'Ital Service non tanto giocare perché noi continuiamo a giocare il venerdì sera alle 20 al Pala Fiera ma comunque potersi allenare nella stessa location E con lo sport si conclude la nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare da quello che comincia subito dopo il nostro TG per chi ci segue nella prima edizione delle 19.40 perché venerdì è la serata del Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine il telegiornale del territorio che va in onda alle 20 come prima edizione e con replica alle 23.15 poi a seguire le repliche che vedete anche per le giornate di sabato domenica lunedì e martedì prima serata che comincia invece alle 21.20 parlando di turismo le marche pronte per una nuova stagione a seguire alle 21.40 Geo come incontra appuntamento con la storia e con l'economia in compagnia dello scrittore e manager Rodolfo Francesconi l'informazione su Rossini TV torna invece puntuale domattina alle 7.20 con Buongiorno Rossini la rassegna stampa dei quotidiani locali del sabato condotta per l'occasione da Marco Cadeddu e sempre con Marco Cadeddu per chi se la fosse persa nella serata di ieri come ogni giovedì c'è insieme a Canestro si può però rivedere la seconda puntata anche domattina alle 11 così come alle 16.15 alle 22 oltre che domenica alle 10 e alle 15 una puntata da non perdere che ha visto come ospiti il presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Ario Costa e il responsabile dei rapporti pubblico e tifoseria Alessandro Mengucci Ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News da parte mia vi auguro un buon weekend una buona serata e una buona continuazione con i programmi di Rossini TV Grazie a tutti